...temperando al desiderio espresso dal compianto cancelliere Dolphus, l'Austria ha fondato un'opera per la protezione della maternità e infanzia, prendendo a modello l'esemplare istituzione del regime fascista. E la prima sede dell'opera in Vienna è stata solennemente inaugurata dal Presidente federale e dal Cardinale Initzer. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info